Michael Marchesi, Pagnoncelli, vincitore qui sul traguardo di Vertova, primo successo della stagione, una bella azione in recupero su una fuga che era partita un paio di giri dal termine e poi questa fermazione in volata. Sì, dovevo provarsi in qualche modo prima della salita perché sapevo che dietro erano forti, dopo che in volata non l'ho sento avata bene. Adesso a questo punto il proseguo della stagione perché è una stagione importante, è una seconda tra gli allievi e ci si aspetta risultati di spessore. Sì, sperando di fare ancora come avvicinare esordente, speriamo di bene. Ma dedica particolare? Dedico ai miei genitori che mi seguono sempre, allenatore, presidente, tutta la squadra.